salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale oggi realizzeremo insieme un progetto per l'azienda elbiz e vi mostro subito il progetto in questione come potete vedere è un orecchino quindi insieme realizzeremo il gemello di questo orecchino i materiali impiegati provengono dall'azienda elbiz e sono esattamente quelli che vi ho mostrato nel video precedente nel video unboxing oltre a trovare i link dei rispettivi materiali sotto a questo video potete vedere visionare ciò che mi è arrivato insieme a questi elementi che utilizzeremo oggi nel pacco che mi ha spedito il biz detto questo voglio elencarvi subito i materiali che ci occorrono per realizzare il nostro orecchino allora ci serviranno delle roccaie miyuki 11 0 sto utilizzando questa colorazione salmone opaco tinto e questo pacchetto non in questa bustina chiaramente proviene dall'azienda elbiz perché è la seconda collaborazione che faccio con loro e questo queste perline ripresi appunto nella nel primo pacchetto altro materiale che ci serve saranno le roccaie miyuki 11 0 questa è la colorazione 42 02 cioè le duracotto calvanese gold è una colorazione io lo sto abbinando alle gold di roccaie miyuki un 15 0 scusate quindi 11 0 in due colorazioni una delle roccaie 15 0 ci serviranno ancora dei cristalli delle rondelle di cristallo due per un millimetro quindi quelle piccolissime queste in questo il codice di questo prodotto e e questi sono color salmone ancora ci serviranno queste gocce qui nell'orecchino queste in corallo sintetico quindi sono delle gocce di pasta di sintetiche proprio sintetiche ma si sentono anche al tatto però fatte molto molto bene che mi piacciono tanto il codice di questo prodotto è questo il perno proviene sempre da un vecchio invio che mi fece l'azienda e questo il codice il codice di questo di questo perno è in acciaio inox come potete vedere dalla dalla sigla stas li presti anche questi insieme alle persone nell'indio precedente poi ci serviranno queste madre perle fantastiche che adoro sono veramente un materiale innovativo per me prestabilissimo a mille usi prima di arrivare a fare l'orecchino ci ho fatto mille esperimenti e sono entusiasta veramente di poter usare questo questo nuovo prodotto la caratteristica di questo di questo elemento è che ha quattro fori quindi ci permette di come potete vedere lavorare attorno a questo senza bisogno di ingabbiatura perché tutto si regge da sé avendo questi quattro fori che ci permettono quindi di oltrepassare l'elemento in diverse direzioni quindi questo è il codice di questo prodotto ancora ci serviranno degli anellini io sto usando questi piccolissimissimi col diametro di 3 mm ma vanno bene insomma anche quelli che avete voi e poi degli aghetti con la testa a sfera per poter agganciare la la goccina nella parte sottostante dell'orecchino detto questo possiamo subito cominciare con il nostro tutorial allora non vi ho detto del filo ho dato per scontata questa informazione ma così non è vi mostro il filo che adopererò io per questo lavoro io utilizzo sempre questo filo l'ho appena comprata la bobina mi è caduta a terra proprio cinque secondi che cominciassi a fare questo questo video quindi questo è il filo che io adopero si chiama panni europe lo compro in un negozio da pesca e costa intorno a 10 euro e utilizzo uno 0 18 mentre l'avo che utilizzo è le 12 della poni quindi acciaio da acciaio scusate ago per la tessitura di perline della misura 12 per prima cosa dovrete infilare sul vostro ago io l'ho appena fatto 20 cristalli 2 per 1 alternati da una rocaille 11 0 della colorazione gold è semplicemente molto semplicemente chiudete a cerchio ripassate ulteriormente hanno dato il filo quindi nulla di più semplice faccio questo questa procedura a telecamera spenta e ci troviamo con il nostro cerchietto di cristalli già pronto trovandoci adesso con il nostro cerchietto ben ultimato quindi già con nodino fatto nascosto parte in eccesso tagliata possiamo già prendere la nostra madre perla e allocarla praticamente all'interno di questo cerchio io sto uscendo da una rocaille 11 0 come potete vedere non so perché questa messa a fuoco è un po terribile allora sto uscendo da una 11 0 e posiziono il la madre perla in modo che il foro sia in direzione di questa perlina perché adesso sarà il momento di attraversare completamente questa madre perla per raggiungere la parte opposta ci muoveremo in questo modo io sto uscendo per esempio a destra scendo giù attraverso la madre perla e se io uscivo a destra entrerò a sinistra della perlina che troverò in corrispondenza e mi muoverò nel senso quindi se sto uscendo a sinistra salirò nuovamente fino ad arrivare nella perlina dalla quale io ho cominciato stavolta la sto attraversando da sinistra e mi ritroverò ad uscire a destra quindi scenderò attraversando la madre perla e se io stavo scendo a destra attraverserò e entrerò nella perlina dal lato sinistro e attraverserò quindi la circonferenza del mio modelino dal lato destro se può sembrare complicato vi assicuro che in realtà non lo è quindi io sto uscendo a destra mi trovo così al come punto di partenza io mi trovo così entro nel foro e attraverso siccome sto uscendo a destra nella perlina sottostante io ci entrerò dalla parte sinistra quindi questa è la perlina che corrisponde al foro e io l'attraverserò dalla parte sinistra quindi da se io sto uscendo mi trovo a destra l'attraverserò dalla parte sinistra quindi entro a sinistra non so se sono fuori l'inquadratura ma credo proprio di no quindi risalgo tutta la circonferenza con l'ago così a vuoto e fino ad arrivare quindi al punto di partenza non vado quindi sono quasi arrivato al punto di partenza questo passaggio è veramente semplice ma io non ci vedo quindi sono un problema di luce ecco qui sono nella nella perlina di partenza stavolta io la sto attraversando da destra verso sinistra quindi scenderò dal foro attraverserò il foro ma nella perlina corrispondente quella che ho utilizzato poco fa cosa farò stavolta entrerò dal lato destro verso sinistra in questo modo non è una questione di praticità ma una questione di fotocamera davanti e di poca visuale che mi sto un attimino ingarbugliando ecco qui quindi ho attraversato quasi perché devo arrivare al punto di partenza questo modulino quasi in toto perché abbiamo fatto praticamente l'infinito sto raggiungendo la parte iniziale avrò completato così il primo giro ok lo giro per comodità è più difficile a spiegarlo che a che a farlo sono quasi arrivata al punto di partenza che questa perdina qui una volta che sono giunta al punto di partenza e sono sicura di aver completato questo giro faccio la medesima cosa ma utilizzando i fori laterali di questa perlina di questa madre perla quindi io mi trovo qui che è il punto di partenza ho giocato fra virgolette uso l'espressione giocato su queste due su queste due perline quelle opposte facendo questa sorta di segno dell'infinito no che si può chiamare così quindi sono entrata così sto risalendo da qui adesso devo portarmi con l'ago nella perlina in corrispondenza del foro che si trova in questa posizione e farò esattamente quello che ho fatto per questi due questi due lati quindi trovandomi ad uscire ovviamente mi sto mi trovo qui no quindi scenderò con l'ago in questo modo attraverserò la perlina da sinistra verso destra quindi io sto uscendo da destra e attraversando la mia perlina in questo senso entrerò nella parte sinistra della perlina quindi se io sto arrivando da destra entrerò con l'ago dalla parte sinistra e farò quindi il giro risalendo di nuovo dal punto di partenza stavolta sto arrivando da destra verso sinistra da destra verso sinistra perché sarà questo il senso quindi scenderò con l'ago e farò un utilizzerò praticamente il senso opposto e sarò sicura di aver completato il giro e facciamo questo passaggio senza telecamera e ci ritroviamo dopo aver assicurato quindi questa questi cristalli attorno alla nostra madre perla e quindi aver compiuto questi giri di cui vi ho appena parlato mi trovo al punto di partenza sono nella perlina laterale questa qui se ci dobbiamo orientare come eravamo predisposti prima adesso devo andare a costruire molto semplicemente delle crocette su ogni 11 0 e per costruire le crocette io ho utilizzato il colore salmone quindi l'altra colorazione di perline e la centrale invece l'ho messa a gold quindi vi mostro come fare mettiamo sul lago quindi queste tre 11 0 color salmone dorata e salmone in questo modo mi trovo a uscire dalla perlina nella parte sinistra da sinistra verso destra e semplicemente ritorno indietro col lago e riprendo la perlina nello stesso senso in cui io sto uscendo quindi da sinistra verso destra creando questa sorta di crocetta come potete vedere ve lo faccio rivedere quindi mi porta uscire di nuovo dalla roccaie successiva quindi l'attraverso tutta è una volta che mi trovo nella roccaie inserisco sul lago tre roccaie 11 0 quindi tre roccaie sul lago nuovamente io sto uscendo a destra da sinistra verso destra e ritorno a nella perlina dalla quale sto uscendo di nuovo nello stesso senso da sinistra verso destra e tiro il filo faccio questo identico passaggio per tutta la circonferenza quindi costruisco su ogni su ogni roccaie queste crocette per un totale quindi di venti crocette avendo fatto il passaggio iniziale con 20 cristalli e venti roccaie alternate mi ritroverò quindi con venti crocette facciamo questa questo passaggio a telecamera spenta ci troviamo dopo fatta l'ultima crocetta adesso non devo fare altro che risalire nella stessa crocetta e cambiare in un certo senso il giro stavo lavorando in questo senso e ripasso tutte queste crocette senza mai entrare nel cipollotto in realtà devo ripassare solo i picò la parte superiore delle crocettine quindi entrerò nei braccetti nella perlina gold cercando di unire insieme quindi tutti questi picò fra loro che sono indipendenti io non devo andare più all'interno del cristallo ma come potete vedere sto attraversando solo le perline salmone quella dorata così passaggio veramente semplice che il robustira e il nostro modulino sicuramente e farà appunto sì che queste questi braccetti si uniscano fra loro e che non non siano così morbidi o indipendenti fra loro completate il giro e ci troviamo alla fine di questo passaggio di ripasso giro di ripasso finito e adesso altro step molto semplice andiamo ad inserire in questi spazi fra queste roccaie di punta ho la messa a fuoco non non mi piace oggi andremo ad inserire quindi fra queste roccaie di punta i cipollottini due per uno salmone forse il tappetino che luccicoso e non va bene ormai questo video pazienza ma ho capito che è sicuramente dipende da questo fattore quindi ho aggiunto il cipollotto negli spazi e mi mantengo morbida non devo stringere il cipollottino sta molto largo in questo spazio come potete vedere ma non è assolutamente un problema perché andremo a compensare questa questa mancanza nel giro successivo quindi velocemente proseguiamo con l'aggiungere questi cipollottini negli spazi lo lo facciamo chiaramente per tutto il giro e ci troviamo ci troviamo dopo sto aggiungendo l'ultimo cristallo nello spazio ed esco dal primo cipollotto che incontro abbiamo detto di mantenerci alquanto morbidi non è necessario tirare quindi anche se i nostri cipollottini sono molto lenti non non è un problema adesso in questi spazi dobbiamo inserire due rocaille 11 0 e utilizzerò la colorazione salmone quindi per ogni spazietto andrò ad inserire due rocaille 2 rocaille salmone e farò questa questa aggiunta per tutto il giro chiaramente per tutto il giro così molto semplicemente senza tirare mi raccomando se non rischiamo di arricciare il nostro lavoro i nostri le nostre roccaille si disporranno in questo in questo modo e poi compenseremo ancora il fatto che queste roccaille siano molto larghe perché aggiungeremo una perlina nel giro successivo quindi non preoccupatevi non tirate troppo il filo e manteniamoci così molto leggera quando lavoriamo quindi ancora due roccaille insieme e ripetete questo passaggio fino fino alla fine aiuto ecco qui siamo arrivati all'ultimo inserimento del modulino ho aggiunto tutte le perline negli spazi e adesso esco fra le due appena aggiunte e inserisco qui fra queste due perline una 15 0 quindi 15 0 sul lago mi metto nella roccaille successiva per uscire nuovamente fra le due del giro precedente quindi facciamo così aggiungiamo sempre queste 15 0 fra le 11 0 salmone del giro precedente e ultimiamo il nostro modulino in questo modo vi raccomando sempre di non tirare il filo se mai dovessimo vedere che il modulo risulta morbido noi appena concluderemo questo inserimento se lo riteniamo necessario rifacciamo un giretto a vuoto per appunto fortificare ancora di più il modulino continuiamo così non voglio farvi un video lunghissimo per passaggi così banali e ci troviamo alla fine per ultimare insieme il nostro orecchino eccoci qui con il modulino completo perfettamente completo l'unica cosa che andremo a costruire adesso è soltanto la soletta che ci servirà per agganciare il perno e per agganciare la nostra goccina quindi cosa facciamo avendo fatto il giro poi ritenete voi il caso ve l'ho detto se ripassare o meno quest'ultimo passaggio io ho deciso di fermarmi in questo modo adesso mi porto ad uscire con il lago da una perlina di punta in questo modo e inserisco quattro roccaie 15 0 sul lago rientro nella perlina della quale stavo uscendo avendo formato così una piccola asoletta come potete vedere ripassate più volte all'interno di questa e quindi effettuate diversi giri almeno 3 4 per rendere forte questa parte che dovrà sostenere appunto tutto il peso dell'orecchino e poi semplicemente attraversando le perline a vuoto vi riportate nella punta nella punta opposta e corrispondente a quella alla quale avete fatto la soletta quindi da questa parte parte opposta e qui sempre con lo stesso metodo andremo a costruire un'altra asoletta con quattro roccaie 15 0 si completerà il giro si rinforzerà un po come preferite e poi si procederà semplicemente al taglio del filo il nodo prima ovviamente al taglio del filo e poi si potrà montare si potranno montare le parti accessorie del nostro orecchino quindi il perno e la goccia ci troviamo dopo aver costruito le nostre asolette per vedere l'orecchino finito insieme l'orecchino è terminato abbiamo fatto già le asolette le abbiamo rifinite e basandoci sul lato la madre perla è un lato conga o un lato convesso o perlomeno un lato è molto più rigido rispetto all'altro che è leggermente abbombato ma proprio al tatto non è visibile questa cosa io mi baserò su questo aspetto considerando quindi la parte più abbombata come il davanti del nostro orecchino andrò a sistemare l'anellino per montare innanzitutto il perno vi ho detto che i solini acciaio sono molto belli questi perni la confezione arriva con quattro pezzi stringerò con cura questo anellino perché è veramente piccolo sottile e delicato e ce l'abbiamo fatto e adesso passiamo alla goccia prendo la goccia e il laghetto con la testa con la pallina io ho decorato l'orecchino precedente con un cerchietto e un cristallo che avevo messo via quindi lo prendo l'anellino cerchietto e cristallo e facciamo una normalissima asoletta non è necessario neanche tagliare il filo la asoletta finita la vado ad agganciare nel mio orecchino quando ci vedevo ah l'avevo afferrato ecco qui e piano piano vado a chiudere la asoletta così l'orecchino il nostro orecchino è già completo ecco qui il paio mi piacciono molto devo dire che sono molto eleganti così a prima vista sembrerebbero quasi degli orecchini all'embroideri invece sono di perline l'effetto è carinissimo molto molto eleganti raffinati almeno secondo i miei gusti spero che il tutorial vi sia piaciuto che sia risultato chiaro in ogni sua parte e naturalmente vi rimando al prossimo video con tantissime novità e nuovi nuovi progetti pronti per voi un abbraccio e buona serata grazie a tutti